Ho pensato molte volte di tornare su YouTube con Inazumi Eleven, l'episodio 1, l'inizio di una nuova avventura, così de botto, senza senso. Un po' come l'ultimo video che ho pubblicato per errore, quello con Tonks. In realtà non è che fosse un errore il video, era nascosto nel canale perché non ero riuscito a completare tutta la serie che volevo fare con tutte le generazioni, con tanti creators. Quindi era diventato un po' infattibile, l'avevo tenuto appunto privato. E una volta ricaricati e resi pubblici tutti quanti i video, è sputtato anche lui come nuovo video secondo YouTube. E quindi niente, ormai la frittata era fatta. Come ormai sapete tutti, è difficile per me trovare il tempo per creare dei contenuti. Anche se ho sempre nel cassetto questa idea di un live show, come il Freak Live Show, o di un podcast, o comunque di avere uno spazio dove condividere i miei contenuti. Insieme a chi c'è sempre stato, insieme ovviamente anche ai nuovi, sempre benvenuti. Per questo tempo stavo cercando di fare degli acquisti importanti, proprio per avere gli strumenti adatti a questa produzione. Un modo anche per darmi la spinta a cominciare. E oggi vi racconto una storia vera, al 100% vera, credetemi, di uno di questi. Circa un anno fa in ufficio mi comunicano che avrebbero installato le nuove, fantastiche scrivanie motorizzate, regolabili in altezza. E io penso, esti che? Cioè che me ne faccio? Delle scrivanie regolabili in altezza? Lavoro? Se posso stare comodamente seduto per 8 ore al giorno davanti al pc? In realtà, dal primo giorno in cui le ho provate, ho cambiato subito idea. Non potevo farne più a meno. La possibilità di potersi sgranchire dopo ore seduto è inimmaginabile. Ti permette quindi di cambiare posizione, mentre continui a lavorare o a studiare. Quindi ho detto, devo averla anche a casa. Inizio a cercare brand e prodotti migliori. In particolare ne trovo uno, Flexispot, che propone una vasta gamma di scrivanie motorizzate di tutti i tipi. Quindi dalle più economiche con un solo motore per entrambi i piedi, a quelle con doppio motore, più stabili, precisi, con la possibilità di cambiare il top, quindi il piano di lavoro, di colori, materiali diversi, ma anche con accessori per cavi, per pc, sedie, mobili. Hanno davvero di tutto. Bene, la voglio. Ma non è un acquisto che voglio fare d'impulso. Prima voglio capire se ne valga un po' la pena. Quindi inizio a leggere le recensioni, guardare dei video e nel frattempo mi arriva una mail da Flexispot. Vogliono collaborare con me per mostrare a voi un loro prodotto, proprio una scrivania motorizzata. Io quasi non ci credo. La prima cosa che ho fatto è stata iniziare a guardare intensamente anche il microfono nuovo che vorrei comprare e l'obiettivo della telecamera che vorrei modificare, che vorrei cambiare. Magari funziona, ma ancora non è successo niente. Magari mi contattano per collaborare anche loro. Vi tengo aggiornati, ma ancora niente. La seconda cosa è stata quella di accettare la collaborazione, ovviamente. Quindi ne approfitto per ringraziare Flexispot, che mi propone il modello E7, che è quello che sto usando attualmente, con doppio motore e piedi di acciaio in carbonio. Io li scelgo neri, il top in bambù da 1,20 m, altezza regolabile fino a 195 cm. Praticamente la posso utilizzare come ascensore per salire sul soppalco di casa mia. È perfetta. Io in casa ho tutto di questa combinazione di colori, quindi nero, legno. Mi piace un sacco e quindi sono contentissimo. Inoltre mi aggiungono pure l'accessorio portacavi. Quindi forse sanno che tempo fa ho litigato con il cable management e da allora non ci ho mai più fatto pace. Il tavolo mi arriva in due imballi separati, per evitare danni durante la spedizione. Lo monto in poco più di mezz'oretta, da solo, in uno spazio molto, molto stretto. Le istruzioni sono chiare, piene di immagini, anche in italiano. Ci sono sia accessori per il montaggio, le viti, sono tutte divise e ognuna ha una lettera diversa, quindi è davvero facilissima l'installazione. Non è necessaria una laurea in ingegneria per montare questa scrivania. Dal mio vecchio setup mi porto già tanti accessori, come il braccio per i monitor, il braccio per il microfono, il treppiede per la telecamera, un pc che ha più cavi che il ram, ma comunque il risultato è eccezionale. Mi sembra tutto super in ordine ed è una cosa che mi soddisfa tantissimo. Sì, devo cambiare il secondo monitor, per questo lo slot è vuoto, ma questo è un altro prossimo acquisto. Perdete nota di qualsiasi consiglio che mi vogliate fare, magari sulla gestione di strumenti, cavi, qualsiasi consiglio anche di come sfruttare al meglio questo setup, così mi lasciate un commento qua sotto, magari miglioro ulteriormente il tutto appena posso. È arrivato il momento dei test, test. I piedi sono stabili, anche a tutta altezza, i motori sono silenziosi e precisi, i comandi comodissimi, con quattro opzioni di memoria, più i tasti su e giù per modificare manualmente al centimetro l'altezza, e inoltre è presente anche una porta USB di tipo A per ricaricare al tavolo qualsiasi device. Ovviamente durante l'installazione ho dovuto sedermici sopra per constatare che riuscissi a tirare su almeno 75 kg di essere umano, visto che vengono dichiarati 125 kg di carico massimo. Tranquilli, non hai esitato minimamente. Ma quindi ci stai dicendo che dopo mesi stai tornando con una marchetta su una scrivania? Sì. A parte gli scherzi, come dicevo all'inizio, questo è solo un piccolo step per qualcosa che vorrei fare molto di più di un gameplay. Ormai so vecchio per certi contenuti, ma le chiacchiere non mi mancano mai. Il fatto di poter parlare con voi, come se fossi appoggiato al bancone di un bar, mi dà la sensazione di poter essere più vicino, più informale, in modo da poter trattare qualsiasi argomento. Forse mi dà la sensazione di uno studio radiofonico, questa cosa mi ispira tantissimo. Ho già parlato con amici di quello che vorrei trattare, le reazioni sono state entusiaste, perché sicuramente sto videogiocando molto meno, quasi niente. Ma seguo parecchio ad esempio l'attualità con tanti podcast, sto leggendo tantissimo, sto studiando più o meno una nuova lingua, sono molto più attento al cibo, all'attività fisica, ho in programma un viaggio epico, non voglio spoilerarvi altro, ma è un viaggio davvero epico. E queste sono solamente alcune delle cose che vorrei condividere, quindi l'idea secondo me è veramente carina. Non vi assicuro che riuscirò a breve, ma sicuramente questa storia che vi ho appena raccontato mi ha dato una spinta per fare qualcosa, come minimo questo video. Quindi sì, tutto bello, tutto leggistimo, come diceva più o meno qualcuno, da quando l'ho provata non voglio tornare più indietro, sia per lavorare in ufficio, che da casa per creare contenuto. Uno. Cioè questo. Cioè fino a ora è il primo che sto creando, magari appunto a breve, ne farò anche altri. Quindi sì, è un po' una marchetta, ma per tutti, sia per voi che mi seguite, ma anche per gli altri creators. Se avete voglia, amici miei, venite a casa mia, ve la faccio provare, oppure provate ad andare nel sito che adesso vi lascio qua sotto. Infatti, in descrizione trovate il link dedicato. Fateci un salto per avere uno sconto. Troverete esattamente il modello che sto utilizzando adesso in prova, da qualche settimana. Però chiaramente, navigando nel sito, potete trovare tutti quanti gli altri prodotti per scegliere il vostro più appropriato. Magari non avete bisogno di doppio motore, ma ve ne basta uno. O volete un top diverso. Qualsiasi cosa. Potete trovare tutte le personalizzazioni, comprese di accessori, comodamente con dei configuratori. E se avete notato... Oh no, le campane! No, ci! No, ci! Ah, non è finito. E se avete notato che le luci dietro di me non sono colorate come al solito, beh, perché se sono rotte. Cioè, non stanno funzionando più. E... Faccio un passo avanti e uno indietro per sistemare questo set e cominciare. Così è veramente difficile. Comunque, spero di poter tornare da voi al più presto, con altri video. Vi ringrazio per tutti i messaggi che continuate a mandarmi quotidianamente su tutti i social. Siete veramente carinissimi. C'è ancora Andrea che manda ogni giorno buongiorno e buonanotte sul server Discord. Qualcuno fermi, vi prego. E se siete arrivati fin qui vuol dire che eravate davvero interessati o a un tavolo o a me. Quindi, grazie. Leggerò tutti quanti i commenti sia per rispondere alle domande sulla scrivania sia per il nuovo setup, quindi ad esempio nuovi acquisti. Possiamo parlarne sicuramente insieme ma anche sulle vostre curiosità magari per quanto riguarda il progetto futuro che ho in testa tanto tempo e spero prima o poi di farcela. Comunque, ci vediamo alla prossima. A presto. Ciao a tutti. Ora mi siedo perché sono stanco. Ah, una certità. Certi sforzi non si possono fare. Oh, oh. Occhio, occhio, occhio. Oh, yes. Questo va a finire le compilation delle robe satisfying. Ciao.